Il cerchio si è chiuso nel pomeriggio di ieri, quando il nome di Marco Lacarra mette d'accordo tutti i capi corrente del PD. Convergenza per la candidatura unica alla segreteria regionale, con il passo indietro di chi era arroccato su altre soluzioni. Il primo passo è stato di Elena Gentile, che già aveva annunciata la ritirata. L'elezione ufficiale del nuovo segretario del Partito Democratico avverrà al termine dell'Assemblea regionale, fissata per domenica 15 maggio. Molti iscritti avrebbero voluto un vero e proprio congresso regionale, sede dell'applicazione della democrazia partecipata, ma sono stati costretti ad accontentarsi dei delegati, che a loro volta hanno subito pressione dai capetti storici del Partito. E così ha deciso Michele Emiliano e chi ha condiviso con il governatore la gestione del partito, contenute le reazioni sui social da parte dei tanti soldati del PD che avrebbero voluto un nuovo corso. Lacarra significa soprattutto continuità. Negli anni della sindacatura barese è stato nella squadra del governatore per diversi anni alla guida dell'assessorato ai lavori pubblici. È in perfetta sintonia con l'ex sindaco di Bari. La candidatura di Marco Lacarra rafforza anche l'area dell'assessore Leo Di Gioia e consolida l'alleanza stipulata con Emiliano. Adesso si aprono i giochi per la scelta dei segretari provinciali. Ieri c'è stata scritta una bella pagina nel Partito Democratico, nonostante le diverse posizioni in campo, è prevalso il senso di responsabilità, abbiamo ritrovato l'unità. Penso che il modello Bari, il modello regionale, a auspico possa essere applicato anche per il congresso provinciale. Il Partito Democratico a tutti i livelli ha bisogno di unità. Questo non significa che su alcuni temi la si può pensare in maniera diversa, ma quando c'è da scegliere la figura del segretario è opportuno che si partecipi tutti in modo tale da garantire la legittimità politica a tutte le parti in campo. Qual è secondo lei l'identikit del prossimo segretario provinciale? Non c'è un identikit, certamente deve essere una figura autorevole e di garanzia, il che mi sembra già abbastanza. Quindi se il segretario viene scelto dalle varie anime del partito, qualunque esso sia, sarà sicuramente di garanzia. L'importante è che alla scelta partecipino tutte le anime del partito, le varie aree, le varie correnti, quindi diciamo questo è l'elemento di garanzia. Un segretario donna è possibile? Anche donna.